Da rimessi in gioco questa volta è di Rivera, Chinaglia, ed è il primo tiro a rete senza difficoltà per... Ha vinto il duello di forza con Bellugi, Hassler, scatto di Miller, rimessi in gioco di Rivera, Mazzola... Riesce il cross di Mazzola, Capello, Riva, e Rivera giunge con un attimo di ritardo sul tiro cross di Riva. Riva sul fondo, poi da Riva, Chinaglia fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco. Beh, l'arbitro concede il gol di Chinaglia al diciottesimo minuto. Mi corre l'obbligo di dirvi che Chinaglia si trovava oltre Poffi e che il guarda linee aveva sventolato. Rivediamo l'azione con il gol di Chinaglia, segnato al diciottesimo del primo tempo, ma il guarda linee aveva sventolato. Vediamo cosa succede. Fuori gioco. Era fuori gioco. Tocco di Rivera, tiro di Riva, e con il... Capello la rimette a Mazzola. Capello. Capello lanciato da Mazzola. Cross di Capello. Tiro di Rivera. Un fallo di Riva che si è appoggiato sulle spalle di un difensore. Punizione in favore degli svizzeri. Chinaglia. Chinaglia. Riva. Ha respinto. Cross. Grand tiro. Poffi riconquista la palla Chinaglia. Riva. 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 Tiro. E la palla va fuori di un soffio sul... Anzi no, gli affida la palla indietro Ramzaier. Fodermatt. Difesa di Riva. Mazzola. Mischia. Esce dalla mischia. Müller. Müller. E la palla va fuori, schiorando.